Eccoci qui con il secondo video di SnowRunner, sempre con compagnia di Budir, dunque ha cambiato la Noi nel frattempo siamo arrivati fin qui, dopo aver trasportato il nuovo acquisto, ora vediamo di dover caricare le casse Aspetta devo dire una cosa, l'incomitore ha detto che questo cannon qua è pessimo, si ribalta con niente L'ho testato ed è vero, però non vi ascolto per vedere ancora se è valido o meno, altrimenti tra l'ascolto a quello prossima volta va bene Prendo questo rischio, Marco, rimorchio, si ho visto qualche sbrasa, c'è qualcosa di brutale Guarda, ho il cassone dietro qua, potresti caricare su di me? Guarda, ho il cassone dietro qua io, carica su di me È vero, si, senza andare a pesantire il camion, lo facciamo qua rimorchio Dunque, ehm... Aspetta, però, se mi pianto io, cosa fai te? E se mi pianto io, cosa fai te dopo? È un problema Eh, esatto, l'ha visto qua, non so se... Aspetta, dobbiamo slacciare prima il carico o qua? Ah, ecco, ora vai a trovarsi, deve già il... Ah, aspetta un attimo Eh, aspetta che... Allora, penso che l'idraulica sia leggermente la nostra Ah, ah, ah Vedo, tu, tu, tu Vedo un attimo Vedo, ah Tutto già va Ma sempre è il buio qua Eh, guarda, ti vuoi che faccia un po' di luce? Sì Aspetta Ah, così vedi anche dove non andare Una vaga, una stersata, una locomotiva Eh, già, si è fatto qua roba seria, no qua... Oh, mi scusi signora, mi scusi, non l'ho fatto apposta Guarda, sulle tassi Si è capato nei cinsioni Oh, mi scusi un altro carico, si è capato nei cinsioni Allora, uccidati Fona? Nooo Ho visto altre volte, trovo una figata E non so, un po' stanno proprio bene Eh? Oh, non si vede niente? Oh Ehi, un movimento strabico Eh, contanto so... Truttore delle luci Allora Eh... Collega Collega rimorchio Eh, mi raccomando, non fare riflessione russo, no? Eh... No, 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 no Eh, disimballa carico Oh, yeah Eh, scollega rimorchio Aspetta, vuoi che ci portiamo un po' fuori? Eh... Eh... Sì, dai Certo qua, non piantarsi massa dopo il camion Avrei anche un euro solo per non so come utilizzarla La spalla a carico, qua è ancora imballato Eh, ma forse... È quello che non ci serve Eh, penso di sì Oh, comunque quello che ci serve è... Qui tra l'altro è capente Anzi, no Due me ne servono Due, era qui davanti Sì Ah, non me Aiuto Ho preso te Sì Mamma mia Oh, ho visto Tu? Là Adesso qua, per sganciare Mmm... Ehhh Ah, collega sgancia il camion Molto bene Eh Ma speriamo che ci sono quelli giusti Eh, teoricamente sì Mi segna... Cosa si segna? Il simbolino c'è una cassa Mh? Mi segna una cassa Su il mio camion Però non corrisponde al simbolo che c'è là O è la cassa di ingranata? Ehhh... Sì È andata sganciata I camion per riparazione, sì Mi serve quello là E due di legno Eh, su questi la no La cassa non c'è entra mai Il mio camion di qua è forse solamente... Eh, non mai, grazie Ma... Eh, non... Hai brincato la cabina Ma... Ma che... Che cavolo di comandi Sono questi? Ah, bella domanda No, vabbè Guarda, la gruma è presa Sì No, come cacchio Sì, è perché l'ho rovesciata io Ah, che volevo capire come fare Ah Guarda che... Guarda che esperto quando sono un po' invasivi Sì, no Ma più che altro perché l'agruma mantiene stabile il punto Quindi... Ma mi sei anche... Ho la grafica spastica mi sei un euratutto Oh! Ouh! Invisuale Fattu! No No! No di la! Noo! Guarda che mi capisci Ma se io mollo? No si rompe, metti da giù bene Ah così, no Si Guarda che il visuale del cavolo letteralmente Si a volte un po' da No destra sinistra sinistra Boom No Ops Sono un po' Destra destra Ruata ruata il carico Ma chiacchi si rupetta Ecco qui c'è scritto Eeeh Eeeh Non mi viene il comando L2R2 Io ho le freccette Non gira un cazzo Aspetta si gira Ah perchè poi si sta grattando sull'altra cassa La Più o meno è a posto si Se ne frega Eeeh Eeeh un po' più a destra Un po' più a destra Chissene Ma che dopo la perdiamo Ah poi ci sentiamo da sola Eeeh Aspetta Eeeh aspetta Eeeh aspetta Eeeh aspetta Eeeh aspetta Ok Voilà Quindi adesso dovrebbe darti Due ricambi per riparazione Esatto Oh Tadaaa Allora Pedonati perchè io tiro su qua sta roba Bene via col carico Guarda chi è che ha parcheggiato qua ste robe Ah non c'è un numero di nome Eheh hehehe Ho poco casulina Tutto l'elettromarcia Questa Vuoi che tene rotti in po' Eh Vuoi che tenei questo in po' Eh dopo un po' d'arte Dè c'è il distributore poi in zona faccio una bucciotta ops faccio un'arte se prendevo le gemellate questo qua è rotissimbo non so che sia valido guarda che mi sono ah sei qua mi scegli? no come no? non mi perdo con niente qua vai non hai ancora memorizzato la mappa eeeh ciao ti vedi? ah no cos'è? ah si si adesso si perchè hai sempre la cru che sbalzolla? eh capito è simile eh si vende al primo tu? ahhh si come il capotto prima va bene spero di non dare ragione agli iscritti finchè hanno detto che questo camion qua è pessimo si devi fermarti almeno in fianco non ho un mezzo a mezzo al paltano anche buona manina? ah mi sono già accacciato mi sono già accacciato mi sono già accacciato che stai facendo? guarda che dobbiamo andare qua dove qua? a sinistra ah che cari che so fermo qua c'è il fosso no qua dove sono andata l'altra volta chi ha? qua dove ti ricordi? ehm sì ehm chi è qui è tutta qua questo è difficile è una difficoltà chi è che è una difficoltà? fino a piano ce la fa non volai vai prego veda veda mi aggancia il vericello veda che provo io aggancia il vericello punto dietro qua vai ah quello è sbagliato il tasto eh bravo non hai ancora imparato i tasti? bravo avevo il volante un po' girato quindi promevo ah sono bravo dritto 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 ah si è perso quasi allo sterzo di salame guarda hanno fatto l'osservazione perdo un po' di tempo se vuoi ce l'ho già io io no però oh no 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 vabbè si ok ma non ce la fa ha messo le marcellette a posto eh marchino? ah il momento ce la sta facendo oggi tu mi andai oh oh no ah che ti capotti ah non so capito che stai facendo cacchio suono scacchio sui vuoi attenti e graffi ma non mi ma non si muovono ma no adesso arrivo guardare a metode automafili no? No, ho guardato la marcia Ma dove di riniti? Eh no, dove di dire il vericello che fa, quindi mi porta indietro No, mi ha alzato il gioco sul vericello qua Cacalone Che cancalone? Guarda il cacalone, guarda il giocato Vabbè, a parte gli incolori È un camion valido Ho anche 22 litri di benzina 79, ah Ma non dà i colpi, se no mi parte via il camion Dai, dai Eh, un attimo Qua a destra, eh E che ce la fa Grazie alle mie abilità Di esperto camionale Dietro la casa, dietro la casa Di sì, petta petta che ho paura Ah, dietro Oh, calma Bene, gestione carico Scarica Scarica Guarda che c'è un maledetto L'albero in mezzo alle palle E da futuro giù Ops Cos'è combinato? Si è piantato? No, no Fado danni la roccia, bravo Oh, per fortuna Per due minuti abbiamo il sole Dai, Bulldir Consegna questi carichi Adesso arrivo Che così abbiamo terminato Oh, la Fantastico La nostra piccola ma orgogliosa flotta Navigherà lungo il fiume in pochissimo tempo Molte grazie E anche questo è fatto Torniamo in città Facciamo un po' di rifornimento E vediamo Anzi no Vediamo subito Quali altri incarichi ci sono da fare In modo da Tenervi un po' sulle spine Per La prossima puntata Allora Abbiamo 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 una frana da sistemare Andiamo per ordine Andiamo per ordine Senza Dover far Troppe Cosi Abbiamo una frana da sistemare E quindi Bene È giusto giusto Sulla strada di ritorno Quindi ci passiamo Ci passiamo Qui per forza E Andiamo sulla strada di ritorno E vediamo Vedete che mettiamo qualche Punto indicativo Giusto per non Per non perdersi E Andiamo subito a vedere Cosa c'è Da portare Era un piada È già Da portare Un po' da Guarda Guarda Ops Ops Ah Vediamo che è bellato strada Andato per cambiare Ma si spaccano i fini E ciò Sono dei fini Mini E cosa fare Oggi A fare il soccorso stradale Questo impedito senza esperienza Nel mondo Vedere Sto demolendo i fini Ma si dai legna gratis Tenta che segare Direi che farsi Di fare un'altra Un po' Io sono inclinato Ora Tieno un problema sei incastrato, bravo genio carburante esaurito ora aspetta che ti trai noi ho 65 litri su 150 direi che posso anche bastare lo bevono come draghi sti motocari qua non mi va neanche il fericello senza carburante si io ti ho ganciato salame ma dove cacchi ti ho ganciato no rompiamo tutto così allora, dobbiamo di agganciare in un punto decente da qua su il ho qualche difficoltà difficoltosa nell'agganciare oh baravara come fuma fatta che metto la lente cattiveria ok si no 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 siamo fregati molto fregati ma io posso fregarti che cazzo io si ma sei t'avvicini e come faccio avvicinarmi ah che lo so fingi e spingi eh oh eh è giocato tutto azzardo faccio qua è giocato tutto azzardo è giocato tutto azzardo è giocato tutto azzardo